E' stata uccisa per un regolamento di conti legato al mondo della droga. Gli inquirenti non hanno dubbi. E' stata uccisa con dei colpi di pistola e poi il corpo è stato dato alle fiamme. Un giallo che è durato qualche ora, quello del ritrovamento del cadavere di Maria Migliore, trentenne originaria di Atina in provincia di Frosinone ma residente da tempo a Sant'Antimo. Il caso è stato risolto dai carabinieri della procura di Napoli Nord poche ore dopo il ritrovamento del corpo all'interno di una Fiat de Blu andata a fuoco nella notte di martedì a Sant'Antimo in via Toriello-Separiello. Dopo aver identificato la vittima e sentito un pregiudicato originario di Sant'Antimo, i militari hanno scoperto che l'omicidio è maturato per ritorsione nell'ambito di vicende legate allo spaccio di droga. Una partita di droga non pagata o l'allargamento della donna in zone non sue tra le ipotesi più probabili. I militari hanno messo in stato di fermo perché iniziati di delitto un uomo e sua figlia accusati di omicidio in concorso tra loro. Il fidanzato di quest'ultima invece è stato soltanto denunciato per distruzione di cadavere. Si è appurato che la vittima si è recata a casa dell'assassino, poi l'uomo insieme alla figlia 23enne si era messo in auto insieme a Maria Migliore. Qui sarebbe scattato un altro litigio e la donna sarebbe stata uccisa. Poi la 23enne avrebbe chiamato il fidanzato per aiutarla ad occultare il cadavere. I tre hanno quindi dato fuoco alla vettura con il corpo di Maria ancora all'interno. Gli interrogatori delle prossime ore chiariranno ancora meglio i contorni della vicenda.